Autorità portuale a Catania, dopo la Camera di Commercio, Confesercenti scende in campo parlando di due atti di arroganza politica che mortificherebbero il territorio di Siracusa. Le associazioni datoriali propongono quindi un consiglio di tutti i consigli comunali del territorio per organizzare una grande mobilitazione. Non solo, ha anche una diffida all'assessore regionale Lobello e al presidente Crocetta per fermare l'iter di costituzione della Camera di Commercio della Sicilia orientale. Un depauperamento generale delle cose prezose di Siracusa, questa è l'analisi che voi state facendo, a partire per esempio dalla Camera di Commercio diventa questa super cam a Catania, la cosa non vi soddisfa affatto? No, nella maniera più assoluta, nel senso che il territorio di Siracusa non può assolutamente essere sconfitto come di questi tempi. Noi già abbiamo perduto la Banca d'Italia perché è stata trasferita. Stiamo facendo una battaglia da circa un anno per la Camera di Commercio che ricordo e ripeto sempre non è solo l'istituzione Camera di Commercio, ma sono due aeroporti, quello di Catania e quello di Commercio, di cui la provincia di Siracusa e la Camera di Commercio detengono il 25% del pacchetto azionario. E questo significa spostare l'asse della governance solo ed esclusivamente a Catania. Adesso c'è anche la questione dell'autorità portuale, quindi il fatto che l'autorità portuale possa essere portata a Catania, questo è veramente insopportabile perché se vanno fatte le aree vaste, le aree vaste vanno fatte con una integrazione del governance dei territori. Il discorso che l'autorità portuale rimanesse ad Augusta, è vero che si aspettava che la sede rimanesse ad Augusta, ma l'autorità portuale di sistema vede l'unificazione di Catania e Augusta, che poi la sede amministrativa sia a Catania, per me ha un significato relativo se non di immagine.